Abbagliandola tre ore e ringhiando verso fuori Non trovo manco più un cortello, oltre la sciosta me l'avete fatti tutti buttati Non trovo più un cortello, non trovo un cazzo Oh raga, c'è stato uno, per favore, uno che mi entra in diretta, che è camionato Esce, c'è stato uno Sono arrivato Vedi attento I cortelli non c'è stato Pensate che brutto, uno che c'è al cortello, io sto con una catena Prendi Quei spettatori di Instagram che loro in 15, lo so Non tocca capire solo un attimo chi è che ha visto una persona passare dietro di me Perché ci sta tanto che questa cosa la sta So due ore che si sta concentrata su questa cosa Ma piglia il cane e due bastoni Ma il cane regà è un cucciolo, tag ancora non è un'arma Cioè tag è un cucciolo Anzi Non lo usa, nel senso non si può usare come arma Ancora Ma io fai entrare uno che mi ha detto che ha visto questa cosa Ma gira via Ma gira via Non è in terra Oh regà, uno Uno che entra, che dice che ha visto una persona L'ho visto prima L'ho visto prima Eh, ti prego Entra in diretta un secondo Trovato? Cortello pure, trovato tutto il posto Bella Hai visto il posto di Pedro? Sì, fratello, dietro alla finestra Dai, fratello, ma che stai a Dio? Ma davvero, fratello Ma come te lo giro, fra? Ma stai scherzando, spesso Te lo giuro, fra Te lo giuro Per davvero, fra Ma non tu c'è vista la persona C'è vista la testa, fra Ma bravo, cioè Se stai distruttando Nel senso io che Ti giuro, fra Non ti sto a pigliare il giuro, fra Eh, io ho chiuso la diretta Twitch Tutto quanto Fratello, ma piglia un coltello, fra Non ti fai un paroglio Che tanto Ma se c'è un ferro Che modon faccia il coltello Fra, ma che ferro, fra Che cazzo devono avere, fra Non ti farà una ghiaccia Ma, fra, comunque Ti fermo faccia Entra qualcun altro Perché se ti dici Eh, te lo giuro Quindi sta più a per culo O non è normale Che voi avete visto Una persona passata Di dietro Te lo giuro Se no manco te lo dicevo, fra Che cosa? Manco te lo dicevo, se no Eh, fra Fammi entra qualcun altro Sai te? Chiama le guardie Ma chi chiama le guardie? Ho guardato Fa, entri una fama Entrata ragazza Magari c'è No, raga Anche perché c'è La porta è aperta Quindi se c'è uno Dovrebbe entrare Eh, ma tag Perché gliel'ho messo a cuccia io Che sono tre ore Prima io ho mandato Ho il mio gruppo con amici Su whatsapp Ho mandato tutti i video di tag Che stava imparanoiato E non l'ha mai fatto E si metteva e ringhiava Sta sul divano No, sul divano Non c'è Confermo Tag Esci in terrazzo E lì esci Tag Chi ha? Chi ha? Chi ha? Chi ha? No No Fanno bene Guardate che cosa suggerisce Il CDC Che sarebbe Lo più valente Del nostro istituto Superiore di sanità Fallo mangiare da tag Raga, tag è un cucciolo di cane Cazzo Io che devo difendere lui Al massimo Ma però Non era una persona Non era una persona Erano due Ne sono sicuro Sarà forse per questo Che ad oggi Gli Stati Uniti Sono il paese Con il più alto numero Di sondaggi Che porta al mondo Ma raga Ma come 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 C'è Tutto Tutto questo Sarebbe assurdo Sarebbe tutto assurdo Che ora Io tengo Questo qua Io tengo Questo fermo Io questo Tengo Questo cosa So fermo qua Voglio vedere Se a me Mi fanno una rapina In diretta Cioè vuol dire Tipo O che muoio in diretta O che muoiono Questi in diretta Niente Questo dice Ho visto i due Non entra Vai Qualcun altro Mettimi Brother Ti do una mano Che mi da Pregare Che sta succedendo Stanno succedendo Che dicono Mi hanno detto Abbuffo Mi hanno scritto Abbiamo visto Una persona dietro Non me l'ha mai detto Nessuno E in più ci sta tag Che sta facendo Lo strano E l'ho dovuto Mettere a cuccia E dargli uno schiaffo Perché abbagliava In terrazzo Fissando il terrazzo Tipo Tenghiava Abbagliava Infatti Tipo ho scritto Su un gruppo Di amici miei E ho scritto Raga Se ho preoccupato Tag Tag è strano Fisse Il terrazzo Abbaglia Guardate le finestre Ma per sicurezza Abbassati Non avete capito C'è solo il terrazzo Di là Quindi Quelli che stanno Sul terrazzo Mio Se ci stanno E le finestre Sono oscurato Io non vedo nulla Da fuori Era lo stormo Di piccioni Ma magari Sono due persone Che le ombre Si sono viste Fammi entrare E ti spiego Si sono viste No raga No raga Non potete Dicare così Oh è vero È vero Stavano due Che vuol dire È vero È vero Ma raga Ma non so Scherzi da fare Perché io nel senso Mio devo fare Tipo qualcosa È vero Che vuol dire È vero Tu hai visto Due sagome Di mientra Non serve Che ti faccia Impanicare È vero Non sto scherzando Gli ho vissute pure io Queste cose Non è bugia Non uscire Con la diretta Non uscire Con la diretta Se non ti fanno Non serve Perché Se esci col telefono Come ti fai a proteggere Cioè Le mani occupate Non puoi mai farlo Non uscire Con il cane Che è piccolo Perché Sarebbe una cazzata Da fare Se esci Ma sì Ma questi Stanno nel terrazzo Mio Se ci stanno Le persone Lo capisci Se ci stanno Due persone E qua c'è il terrazzo Io che devo fare Io tengo il teracono Così E viva Chi è? Chi è? Chi è? Si Buongiorno 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 ma te stai ancora in diretta stai? sì sì ma sei uscito fuori nel senso magari hanno riscavalcato ma perché non è una cosa divertente da fare in diretta almeno fampiamo qualcosa altro di divertente è entrato un uomo è entrato uno no raga aspetta un attimo che vuol dire no raga ma che stai? almeno poi me lo stanno a scrivere pure me lo stanno a scrivere gente che conosco me lo stanno a scrivere raga ma che stai? da giurà dai c'è tu ma Gabrielli merda mamma mia comunque io calcolo sei una cazzata ora vado a controllare mi scavalco ovunque oh Gabrielli ma dici? ma tu hai visto cioè ti ricordi ti ho detto 20 minuti fa ho detto una cosa di tag e ti ho mandato tutti i video sì sì ma tu hai visto tutti i video hai visto tutti i video che ti ho mandato dei tagli non mi ha mai fatto così e ora questi in diretta per la prima volta mi dicono vabbè io in tutto questo ho uno in diretta che mi dice ma che dico che vuol dire che vuol dire vabbè sei uno stronzo comunque se non è vero che giuro vengo in culo a voi oh e poi io non stavo leggendo i commenti da quasi tutta la sera mi casca l'occhio su un commento oh è passato uno dietro e poi che cazzo ne sanno non è che capito questi me lo possono aver detto tipo apposta perché che ne sanno magari c'è sta mio fratello in terrazzo guarda fratello guarda i tagli che te faccio vedere guarda i tagli come guarda verso fuori ci sta a fare che è tuo fratello coglionio che poi mi ha dato troppo no ma infatti ma infatti venisse qua entrasse dentro al coso mi c'è meno in diretta se mi vuole rapinare o dico davanti a 2000 persone se mi vuole rapinare io sto qua mi frega il cazzo però è trasse magari questi sono fami aspettano che mi addormento mi mettono tipo i fazzoletti quelli per addormentarmi e mi si fanno tutti esci io esco esco in diretta nel telefono con te ecco sto tipo rambo nella nella cosa ecco ecco mi faccio tutto il balcone però calcola che la diretta sta attaccata al wifi vai fra io sto tipo call of duty però sto senza pistola c'è pausa pausa connessioni deboli io devo lasciarla devo lasciarla un secondo le pad qua sì allora mi dicono di lasciarla di lasciarlo mi dicono di lasciarlo che si vede la fine ma poi io sto vigliacco di merda io sto dentro una casa da solo ma due persone dicono che hanno visto ma vanno venire uscite fuori se c'è qualcuno magari mi devono far girare tutte no però sto vedendo in mezzo le sacre no fermate aspetta un attimo ci stanno dei problemi sul terrazzo con la catena dei tag e cose vedo le sacre no aspetta succede qualcosa devo lasciare oh guarda no tag buono mamma mia c'è sta tag pure che fa degli scatti assurdi aspetta devo lasciare il telefono che si vede no frate allora leva di tag si vede l'entrata che poi ha i miei amici fidati ok ho passato la diretta sull'entrata ho messo una fangiglia stella insomma non direi la condizione di sull'entrata offro No, a me mi sta andando, Fra, a me mi sta andando, ci sto io davanti. Ma Fra, ma che sta a dire, le lucette, le lucette ce l'ho da sto, ce l'ho da Natale e nessuno mi ha messo una cazzata del genere, cioè... Ecco, ho spaccato pure l'iPad, 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 qualità video pessimo mi dicono, perché io vedo bene, raga, salva la live e guarda bene, è davvero, raga, devo salvarsi comunque se salvo la live, però è troppo lunga, quindi ci metterei comunque una cifra, ci metterei. Non ho capito, non ho capito, che vuol dire? Ma Fra, ma che vuol dire, ma comunque non è un scherzo, prima cosa non è uno scherzo da fare, cioè che vuol dire, a traffic, a traffic si stava a scrivere traffic con una F, gli avevamo detto in diretta, cioè... A me mi dicono, cioè, sono passato uno dietro, ma che vuol dire, oh, ma che state scemi? Il meglio che ora fa è successa la cosa di Doug. Mi divertivo del cazzo, cioè, oh, Doug, vai a cucciare, eh. Chiudi la finestra, Fra, alla fine della finestra si apre con calcio, ma c'è che... La finestra si apre con calcio? Fra, sì, ma che vuol dire, ma se sono quelli che, cioè, se si sono arrampicati, loro si possono pure appizzare, io magari sono uscito a controllare, ma si sono appizzati al cornicione, lo vedi, cioè, è troppo grosso, Fra, il terrazzo mio è troppo grosso, magari sono stati di sotto al tetto di legno. Grazie a tutti.